L'associazione Cilento Sport Event, organizzatrice della prima edizione di Coppa del Cilento 2016, associazione formata da ragazzi e ragazze cilentane impegnati da anni nel campo del sociale, con esperienze di promozione turistica e gestione sportiva, aderisce all'iniziativa di raccolta fondi a favore di Simone Maiuri e attualmente ricoverato presso l'ospedale di Vallo della Lucania. A tal proposito abbiamo sentito i nostri microfoni l'organizzatore di tale evento, il signor Alfonso Liguori. Durante tutte le gare della Coppa del Cilento abbiamo istituito un angolino dove è possibile fare una donazione per un ragazzo cilentano che è stato vittima di un incidente stradale e che ha bisogno di cure e quindi faremo questa raccolta fondi durante tutta la manifestazione proprio per Simone. Quindi chiunque è interessato venga a vedere le partite, potrà donare qualcosa presso le biglietterie dello stadio Gimora di Vallo della Lucania, quindi facciamo un appello un po' a tutti i cilentani perché c'è da dire che anche la Ploco di Ascea sta portando avanti questa iniziativa, quindi due belle iniziative per evitare una persona in difficoltà. Sì, perché noi siamo sempre vicini ai ragazzi in generale, nei momenti di divertimento come lo sono i momenti di questa Coppa ma anche i momenti più importanti quali possono essere momenti di solidarietà. Siamo un popolo unito, siamo un popolo che crede in questi valori, quindi invito tutti a venire a vedere la Coppa del Cilento e a dare una mano a Simone come già da stasera tantissimi amici, tantissimi ragazzi stanno facendo.